È un settore terziario britannico un po' affaticato, quello che emerge dalla diagnosi di luglio. I servizi, colonna portante dell'economia del Regno Unito, mostrano ancora crescite invidiabili, ma se la finanza va a gonfie vele, categorie come architetti e commercialisti registrano dei cali nelle attività. Senza contare la frenata delle assunzioni, tutti segnali di una crescita più moderata nella seconda metà dell'anno che la Banca d'Inghilterra dovrà ponderare con cura. La tempistica del futuro rialzo dei tassi di interesse sarà determinata proprio dal suo verdetto sulle prospettive economiche.